Ai Biancazzurri si chiede una decisa inversione di tendenza nel gioco ma soprattutto nel risultato. Pronti via nessuna variante tattica, modulo di sempre 4-2-3-1 a cambiare e a dire il vero è qualche attore. Rientrano infatti Peseresi e Bau, in mezzo Speranza è preferito Luisi, escluso a sorpresa fin anche dalla panchina. Nel Rimini grandi problemi per Acori, costretto a varare praticamente ex novo l'intero reparto difensivo. Danno Forfè, Milone, Peccherisi, Porchia e Next Remis per un attacco di appendicite il pescarese Luca D'Angelo. Inedita la coppia centrale Mastro Nicola Di Fiordo, il fantasista italo-argentino Adrian Ricchiuti e invece l'esterno di centrocampo di un 4-4-2 che in attacco si affida alla tandem Motta-Moscardelli. Romagnoli contratti e quasi impauriti, Biancazzurri attenti ma remissivi. La posta in palio condiziona insomma l'atteggiamento delle due squadre. La partita del generosissimo cammarata dura soltanto 13 minuti. La spinta di Baccin è evidente, il centravanti urta violentemente contro la panchina. L'ex veronese non ce la fa ed abbandona il proscenio. Si parla di strappo muscolare e quindi di campionato finito. Al suo posto Davide Matteni. Il match non decolla, il Rimini ammirato nella gara di andata è solo un pallido ricordo. Prova a scuoterlo l'ex terramano Simone Motta. Splendido invito per Moscardelli che conclude al volo. Avramov neutralizza agevolmente. E così l'unico vero pericolo per l'estremo serbo. Arriva al venticinquesimo. Richiuti illumina assist per Motta. Sinistro al volo sporco. Avramov è superato. Decisivo Delicarri in anticipo su Moscardelli. Mai propositivo ma ordinato il Pescara di cui nel primo tempo si ricorda solo questa finezza di Peseresi. Tonnella ai danni di Valiani con successivo traversone facilmente disinnescato dal portiere Romagnolo. Ripresa più vivace. Rimini subito intraprendente con Motta che riceve e conclude dal limite. Gonnella devia Avramov. Non riesce ad evitare l'angolo. Al quarto la risposta del Pescara con Matteini. Destro fuori bersaglio da posizione decentrata. Momento propizio. Undicesimo fascia sinistra. Bau porta spasso due avversari. Calcio di punizione batte Peseresi. Mastro Nicola disturba Delicarri. Dei anticipa croce. Le proteste del capitano. Le immagini non sono chiarissime. Biancazzuri comunque più attivi. Diciottesimo. In evidenza Peseresi che spezza il gioco avversario. Lancia nello spazio. Matteini buona l'accelerazione. Il destro dell'attaccante però largo ed impreciso. Il Rimini reagisce al ventunesimo con Moscardelli. Calcio franco dal limite. Sinistro a giro. Pallone alto di pochissimo. Ventisettesimo. Primo avvicendamento fuori. Les Austobau dentro Cinelli. Svolta tattica. Centrocampo a tre con l'ex Avellinese. Vertice basso. Speranza e Tognozzi interni. Matteini diventa l'unico punto di riferimento offensivo. Al trentaquattresimo. Grande opportunità. Punizione di Peseresi. Deviazione di Delicarri centrale. E priva della necessaria potenza. Ma il Pescara cresce. Due minuti più tardi. Peseresi ispira. Lancio a tagliare il campo per Matteini. Anticipato dall'ottimo di Fiordo. Sono tuttavia i prodromi del vantaggio. Trentottesimo. Cinelli ruba palla in mediana. Appoggio a Croce. Che d'esterno serve in profondità a Matteini. Bravo ad attendere l'inserimento del compagno di squadra. E a servirlo splendidamente per il diagonale preciso e vincente. Un gol di raro pregio. Che suscita l'entusiasmo dei 400 supporters al seguito. E non è finita. Tre minuti più tardi. Quarantunesimo. Croce concede il bis. Propiziato ancora da Matteini e Speranza. Con la casuale complicità di Di Fiordo. Spietato l'esterno Bianchazzurro. Che con questo piatto al volo infila per la seconda volta l'estremo di casa. E il Pescara è finalmente tornato.